Ciao a tutti, sono al Salone del Camper e vi presento due autori del nuovo libro dedicato alla caravan. Stamattina si è stata la conferenza di inaugurazione, si chiamano Lorenzo e Cesare, loro due sono gli ideatori di quest'anno. Direi che potrebbe essere un ottimo compagno per l'inverno e per il Natale, che ormai non è molto lontano. Volevo fare qualche domanda e capire qualcosa in più del libro. Io lo sbirciavo, in qualcosa già mi piace. Allora ragazzi, qui si tratta di ragazzi. Chi è l'artefice del progetto, da dove nasce e perché nasce questo progetto? Il progetto è un progetto a quattro mani e tutti gli effetti. È un'idea che a me girava in corno da tanto e Lorenzo, parlandone con Lorenzo, di essere ripresi e la condividevamo. E abbiamo deciso, a un certo punto, lui mi chiama e mi dice ma è ancora una volta di risposta. Se mi dai una mano, sì, che l'abbiamo fatto sì. Quindi la mente è entrambi. Sì, è un dicefalo. Bene. Ma io l'ho letto, questo libro, e volevo cercare di capire chi è il lettore che deve acquistare un libro. L'uomo comune della strada, un campeggiatore, un camperista, un caravanista? Sostanzialmente è stato pensato per chi della caravan non sa nulla. Non ne parla nessuno, esiste solo il camper e va benissimo. Va bene, perché il camper non c'è problema, però ci sono anche altre cose. E allora questo libro si approccia a chiunque vuole capire cos'è una caravan, cosa c'è di fare con la caravan e poi si decide che è un momento in questo punto. C'è anche un po' di abicini sul momento in c'era usato. Dunque, io devo fare un po' di passi indietro. Per me la caravan era la bella casetta, piccolino, la bella casetta, la casetta era la caravan. E quindi per me questo libro, il motivo, sarebbe a compararlo per la caravan. Però mi viene da chiederti, un motivo per cui l'uomo comune della strada o il lettore deve compararlo con il vostro libro? Il motivo è che noi che andiamo prescritti di vacanza all'aria aperta siamo riusciti a scrivere una cosa, un libro che possa aiutare le persone a poter fare questo tipo di esperienza. Quindi vedi da vacanza all'aria aperta con la caravan, che è uno strumento, che in questo momento è un po' messo da parte, ma che può, con un maggio delimitato, poter far trascorrere le persone a parte. Quindi, il libro sul mercato non ci sono altri testi. Se qualcuno vuole acquisire questa nostra esperienza, prende il libro e può andare dal professionario sapendo esattamente... E nel libro? Dove si compra il libro? Dove si trova? Il libro si trova su Amazon, sia in versione cartacea che in versione elettronica, oppure ai nostri spendi per l'Atlandia, le fiere del sicuro. Perfetto. Quindi direi che avete gli strumenti, il motivo, il contenuto e quindi l'opportunità di fare un buon regalo, prossimo per il Natale oppure per l'autunno. Ciao a tutti, grazie a tutti e a voi. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao a tutti.